Buongiorno a lei, ma state facendo arrabbiare Salvini voi con questi voltinaggi? Cerchiamo di far arrabbiare sia Salvini che Ameloni che sulla questione delle pensioni stanno peggiorando la legge Fornero, per cui i giovani non riusciranno ad andare in pensione, specialmente chi andrà, andrà con una pensione molto ridotta rispetto a quello che dovrebbero percepire. Oggi è andata. Distrettamente bene, dai, c'è stato un bel po' di gente, persone che ci vogliono bene e siamo qui ogni giovedì e come sempre ringraziamo Chioggia. Bellissimo venire al mercato a Chioggia e poi abbiamo qui un signore che lavora e fa mercato da 62 anni che adesso arriva ed è la storia, 62 anni di mercato tutte le mattine, al giovedì. E vorrei fare anche un complimento, colgo l'occasione per fare un complimento a tutte queste donne che da sole si scaricano, si scaricano il furgone, se lo parcheggiano e secondo me è molto ammirevole. Assolutamente sì. È d'accordo? È d'accordissimo. Abbiamo qui, festeggiamo in compagnia e facciamo colore a questo bel signore che ha compiuto gli anni e abbiamo invitato altri ambulanti per fare un piccolo brindisi. Stanno lavorando quindi è un momento che c'è tanto tempo. E siamo qui al Veccio Orologio che è un locale da Giulia.Ci per festeggiare il nostro Christopher. Eccolo qua! Ecco! Non è lui festeggiato ma è il Pilato del mercato. Eh sì, adesso manca Matteo. Volevo sentire la parte. Scusi che cosa fa qui? È vero che amico... È amico quella della scena. No, io non ce l'ho meglio. Un minuto! Un minuto! Un minuto! Adesso! Adesso, adesso! Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Dov'anni Due might thy Grazie per la visione!